oggi siamo qua a fare un giretto per i colli di reggio emilia con sto ragazzo qua con il tm 2022 nuovo di pacca pronto per grippare e no dai speriamo di non farci malo vecchio dai facciamo un giro alla cazzo che qua ci sono dei posti un po carini grazie a tutti grazie a tutti spero che lo sentiate anche voi perché c'è un po' di vento speriamo che ci senta qualcosa questa curva qua mi ha fottuto un paio di volte ma qua 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 ci vuole subito e qua è un capito C'è quanto l'estera a te, non c'è l'espaque. Non c'è l'espaque. C'è l'espaque. Forza! Il nino c'est toi! una cosa figata da in fondo c'è regge quasi siamo sui guadagno no questa strada qui davvero è molto bella però è strettina quindi bisogna stare all'occhio eccolo eccolo è vecchio vai tro è gira dai andiamo dopo se riesco gliela rubo che faccio un test mi sbaglio perché ce l'ha vista la strada è diciamo bella tra virgolette da qui poi c'è un po' che ci sono le macchine se no la spaccava che c'è un po' 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 che c'è un po'